ore 12 e 15 del 20 maggio 2014 si chiude un'avventura lunga 106 anni se ne apre un'altra tutta da scrivere l'associazione sportiva Bari la gloriosa società biancorossa da oggi non c'è più la società che nascerà dalle sue ceneri si chiama FC Bari 1908 e l'alfiere lui Gianluca Paparesta un barese l'ex arbitro di calcio che per primo già dalla prima asta del 18 aprile scorso aveva espresso la volontà di comprare il club che dopo oltre 30 anni di dinastia matarresi aveva dichiarato fallimento non c'era riuscito allora per problemi sul deposito della cauzione c'è riuscito oggi dopo un testa a testa emozionante tanti giocatori si diceva che grazie anche richiami dei tifosi a centinaia in tribunale come ieri al San Nicola e con una base d'asta scesa a soli due milioni avevano accarezzato il sogno di mettere la propria firma sul nuovo corso della Bari alle 10 e 30 erano in quattro a giocarsi la partita la S Bari Calcio di Rosati Montemurro il primo concorrente a consegnare la busta con l'offerta la SS la Bari 2014 di Izzo Canonico la Bari Calcio 2014 dell'investitore Antonio Cipollone la FC Bari 1908 di Gianluca Paparesta con l'ho Grazie a tutti